Allora, il prossimo premio, devo dire che è più che meritato, anzi è d'obbligo, non si è mai tirato indietro, nuotatore, ciclista, podista, triatleta, trail runner, insomma i bronzi a lui fanno veramente un baffo, Agostino Lucisano! Grazie, 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 veramente grazie, devo ringraziare Luca che per ogni manifestazione mi farò ingiovanissimo, perché mi fa capire che lo sport è la cosa più bella che ci sia, grazie Luca e sarò sempre con te, grazie a voi, ciao ragazzi a tutti, perché poi voglio la medaglia!